Ciao videomaker e bentornati sul canale! Si sono fatte tante discussioni, su questo canale sono passati videomaker e fotografi e quest'oggi vorrei portarvi un ospite che sicuramente può allargare un po' la visione fotografica a cui siete abituati perché si è parlato tantissimo di macchine, di ergonomia, di otturatori, di obiettivi, di focali però in effetti quest'oggi andiamo a parlare di qualcosa di più spicciolo e più veloce perché sappiamo che vi piacciono queste cose, cioè i trucchetti Abbiamo Giovanni Savelli che si presenterà, che sicuramente si presenta meglio di come potrei fare io Prego, prego! Allora, buongiorno, buonasera a tutti Io sono per appunto Giovanni Savelli, sono un post-produce pubblicitario da ormai una decina di anni Vabbè, nasco ritrattista in realtà al tempo e poi mi sono aperto molto di più alla post-produzione perché mi veniva molto meglio post-produrre che fare fotografie Però ci arriviamo Oggi ho pensato di portare un qualcosa che parlasse un po' di me diciamo, di quello che mi piace portare comunque sull'internet, sui social Ora è un periodo che mi sono aperto un pochino i social, quindi sto cercando di portare un po' la mia visione di quello che è Photoshop E i trucchetti che voglio portare io sono in questo caso qua il capire, ok? Photoshop Una visione tua di come interpretare il software, giusto? Esatto, esatto Il mio punto di vista proprio sul software è capisci il mondo, capisci il software Un po' tipo salvalaci il leader, salva il mondo Ok Io mi baso molto appunto sulla visione del mondo, ok? Sul capire le cose prima di farle Quindi il mio modo di spiegare, il mio modo di intendere comunque proprio il software c'è proprio questo qua alla base, diciamo Molto interessante e credo che sia tra l'altro un concetto molto sottovalutato questo Di rapportarsi con il vero o comunque con qualcosa di vissuto così con i propri occhi Prima di mettersi a lavorare usando un supporto digitale, elettronico, quello che vuoi Cioè credo che tutte le persone che non hanno ancora capito che cos'è la gamma dinamica È solo perché non si sono mai fermati a guardare sotto l'ombra di un albero con i propri occhi Esattamente, esattamente Una delle cose che dico tanto Vabbè io ho una passione sfrenata Non credo esista una persona al mondo che possa dire che ha una passione per le ombre E per la luce Ma proprio per le ombre In quanto proprio per disegnare le ombre Quando spiego per l'appunto quelle che sono le ombre Invece di utilizzare le curve faccio utilizzare esposizione Per quel motivo perché alzando correzione gamma e abbassando esposizione Si riesce a creare quell'effetto un po' desaturello Un po' poco vivido Ok? Molto 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 proprio alle ombre Che è proprio per la gamma dinamica Quindi di colpo ottieni un'immagine che sembra meno post prodotta, più naturale Però hai fatto pure meno fatica in tutto ciò Esattamente, esattamente È proprio quello Ed è già partito il primo trucchetto raga Cioè neanche abbiamo iniziato È già partito il primo trucchetto Comunque prima di andare oltre Comunque di darvi in pasto altre cosine Io direi Siccome Giovanni si occupa anche di didattica in tal senso E ha una sua piattaforma Su cui porta con una certa frequenza mi dicevi Sì Contenuti interessanti Vuoi un attimino spiegare ai nostri amici dove possono trovarti Nel caso fossero interessati? Allora io al momento sono molto 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 attivo su Twitch Sono in live tutti i giorni Con un palinzesto Come ti trovano? Diciamo Giovanni Savelli Molto semplicemente su Twitch E in realtà sono in live tutti i giorni Con un palinzesto diciamo Photoshop Friendly Vado proprio tutti i giorni Tipo il O lavoro io per conto mio E sono in live e mi faccio guardare Di cosa vado molto fiero Che è la spy mode Oppure comunque tra tips and tricks Oppure progetti iniziati e finiti su Proprio stamattina Ho terminato un lavoro iniziato su Twitch Proprio creato dalla bozza fino alla post produzione finale Con le fotografie in mezzo Quindi ho anche fatto le fotografie in live e tutto il resto Su Twitch Poi sono Caricherò a breve Sto iniziando a montare tutti i video anche su YouTube E sono anche su Docity Sulla tua Docity Con seminari, videocorsi e altro Quindi un po' ovunque diciamo Sotto casa magari pure a vendere il pesce tra un po' però Ed è per tutto È un prezzemolino il nostro Savelli Comunque sia in descrizione vi metto i link a tutto E io direi che possiamo iniziare Allora partiamo dal concetto che hai espresso prima Cioè in che modo secondo te Con un'osservazione Che sapiente del mondo Si può riuscire ad arrivare a A una giusta Tipologia di workflow Lavorando in Photoshop Io inizierei banalmente Dal fatto che Allora intanto dipende Io dipende sempre Dal prodotto finale Che dobbiamo andare a tirar fuori Questo è Ok Dipende sempre da cosa dobbiamo andare a fare Io mi muovo molto spesso Al 90% nell'ambito pubblicitario Fotorealistico Quindi ci tengo molto al proprio al fotorealismo Bello crudo E quindi dico sempre Che comunque il mondo Il mondo è triste Cioè il mondo Super pop Super colorato Non esiste Diciamo ora Mi è venuto in mente Alla James Gunn È uscito adesso il video Del primo trailer Tutto super colorato Sì Super colorato Super pompato Non è così Il mondo è molto più triste Quindi già se io riesco a Coniugare Guardo fuori E rimetto dentro Faccio una foto La porto su PC Voglio inserire un Un elemento Diciamo esterno O comunque Voglio tanto Posso produrre l'immagine Un pochettino Devo Tirare giù Per dire Un esempio Stupido Oppure un'altra cosa Un po' più Diciamo un po' più cicciotta Un po' più complicata Un po' più Articolata Diciamo Il capire Fondamentalmente Di che materiale Sono fatti gli oggetti Io ora guardavo Il tuo video L'altro giorno Sulla scatola Sì Del cazzo di sicurezzo E c'è stato un certo punto In cui nel 3D Hai utilizzato La normale La mappa normale Per dare il movimento Agli oggetti Ok Quindi ora ci muovemo Un pochino più Nell'ambito del fotoinserimento Ok Di un'immagine da zero O bella post prodotta Nel 2D Che è l'ambito nel quale Mi muovo io di solito Ovviamente il materiale Ha comunque quei movimenti Quindi io devo capire Che il materiale Che vado a fare Ha dei movimenti Ha dei movimenti Ha dei movimenti E quando per esempio Stupido Inserisco una luce Inserisco un bagliore Inserisco un colore Non lo posso andare a spalmare Come fosse un vetro Come fosse uno specchio Ma devo andare Devo dare retta Alla rugosità Del materiale Se è poroso Se è un tessuto Se è come la mia camicia Vedi la mia camicia Che movimento fa Tutti per tutti Per questi momenti qua Se io volessi cambiare colore A questo bagliore Che ho qui accanto Io devo osservare Prima di andare a intervenire Osservando Questi movimenti qua Che ho qua sopra Io mi posso andare a creare Un qualcosa Che si chiama Maschera di luce Banalmente Che mi va a dire Ok Dove c'è la luce Io vado a modificare il colore Dove c'è l'ombra No Poi il come si fa Magari lo vediamo Più avanti Però Questo tipo di osservazioni Proprio per capire perché O esempio Guarda Guardo qui dietro Dove sta Qua La luce che esce fuori dal divano La luce che viene fuori dal divano Se io la voressi andare a mettere Da solo E anche qua È un'osservazione Diciamo l'ombra Di sotto Uno dice ok È sfocata l'ombra E in realtà L'ombra non è sfocata L'ombra Sfoca mano a mano Che si è lontana Dall'oggetto Ma domanda banale Di quanto Sfoca Capito Cioè come fai A capire quanto Sfoca Lo vai a capire Nel momento in cui Capisci come funziona La luce Perché fisicamente Si crea quest'ombra Qua dietro E quindi tu riesci Da solo Senza fondamentalmente Un tutorial Ma soltanto guardando E osservando Come poter andare A fare una roba del genere Quindi Qui stiamo parlando Proprio di creare Qualcosa che in effetti Non c'è E quando tu crei Una roba da zero Il rischio che corri È sempre quello Che si capisca Da lontano un miglio Che una roba farlocca Esatto Tu parlando di fotorealismo Non puoi permetterti Un effetto del genere O perlomeno Te lo puoi permettere Se hai voluto Ma non puoi permetterti Di piazzare due robe In una scena Che sembrano galleggiare Nel nulla Che sembrano Non avere nessuna coerenza A livello di Impatto con la luce Di riflessi E di Sostanzialmente Di contatto Con gli altri elementi Tu mi hai mandato Un'immagine Che è veramente Molto bella Nonostante Nonostante ritragga Gli emblemi Della mia disperazione Cioè Lo scudo Di Capitale America Il martello Del carpentiere E il reattore Pettorale Che cosa ci racconti Su questa immagine? Vi facciamo vedere Intanto l'immagine Che cosa c'è di vero Qui? Aspetta Partiamo dalla cosa Più importante Cioè Sei partito Da qualcosa Di reale Per creare Questa scena? Allora Questa immagine qua È abbastanza complessa Ma bella Di impatto Di vero ci sta Il pulviscolo In alto a destra E E E E E E E E E Alcune piccole Altre cose Per esempio Le luci In basso Che riflettono Sulle bacheche E poi sul pavimento Questa immagine qua È un 3D Ora facciamo anche vedere Facciamo anche vedere L'immagine Non un po' sprodotta Per capire più Di quello che sto Di che sto parlando Ma la cosa interessante Di queste immagini È che per quanto sia Un 3D Il lavoro che c'è sopra D'osservazione Come dicevo prima E da qua Eriamo sempre al punto È Fondamentale Per esempio Come vedete Come si può vedere Dalle immagini Sulle bacheche La luce per esempio Che rimbalza per terra Non c'è Ok Quella è stata messa In photoshop Ok Ma Quando uno Va a produrre Una roba del genere Dice ok Devo mettere È bello Mettere le lucettine Che rimbalzano Perché i lucetti Sono illuminati E basta Io le metto Però l'osservazione Il ragionamento Che c'è dietro Mi fa pensare Aspetta Aspetta un secondo Però luci Che rimbalzano Sullo specchio Sul vetro Arrivano per terra Ok E questa è una tecnica Una tecnica di photoshop Attenzione Io non parlo mai Tecnica di photoshop Parlo sempre di ragionamento E quelle luci Che rimbalzano per terra Che arrivano per terra Dal vetro Devono stare sotto Il pavimento Non sopra il pavimento Un errore Che fanno tantissimi Il 90% Delle persone Che vedo Può produrre qualcosa Sui social Ok Per andare a fare Un bagliore Una lucettina Che atterra Per esempio Prendono Una palla bianca Di luce Desaturano Cioè Deopacizzano Perdonami Ma già Entra trasparente E Non E Dice ok Ho fatto un riflesso E in realtà No Qua sempre Nel ragionamento Che ci sta alle spalle Quel tipo di Oggetto Se si vede Nella Zoomando appunto Cioè Ingradendo comunque L'immagine Si vede nel pavimento Che le luci sono Sotto il pavimento E io le luci Sotto il pavimento Nonostante siano messe In postproduzione Volendo Le posso prendere E spostare E loro rimarranno Assolutamente sempre Sotto il pavimento Andando a Interrompersi Diciamo Dove c'è una scanalatura O accendersi maggiormente Dove c'è una Una cresta Diciamo Parliamo di onde Una cresta E una ballatura Una depressione Diciamo Ok Perché parliamo Di un pavimento Vero Un pavimento Un pavimento Vero Certo Non è virtualmente Lisce Cioè non c'è nulla Di virtualmente Perfettamente liscio Un pavimento Ci cammini sopra E quindi Quel riflesso Se c'è una parte Leggermente scheggiata Non ci deve stare Più lì Non ci deve stare Più lì Esattamente Esattamente Questo è tipo Questo è cemento Quarzato Un po' usurato Un po' di qualcosa E tu Capito Ma il fatto che Non è tanto Una questione Di tecnica Di Photoshop Oddio quanto è difficile Fa sta roba Chissà quanto è complicato No E soltanto arrivarci A livello mentale A una roba del genere Un'altra cosa Che non c'era Nel 3D È il riflesso Delle teche Per terra Perché casualmente Per la Lucentezza Tra l'altro L'altra cosa Fichissima Mi inizio a fomentare Come al solito Cosa fichissima E tu puoi decidere La riflettenza Di un oggetto Di un materiale A posteriori Cioè nel senso Il tutto Sta nell'ingannare Il cervello Se io Ho un pavimento Allora Come differisco Da un pavimento opaco A un pavimento lucido Dalla riflessione E dalla E dalla 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 presenza Di questa riflessione Momenti in cui Questo pavimento qua In 3D Era molto 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 più opaco Ma al momento in cui Io ci vado ad inserire Quel rettangolino luminoso Che non è in alto È proprio un rettangolino Luminoso Il mio cervello Va a percepire Quel pavimento Come lucido Perché vede Una Una riflessione E anche lì Banalmente Tutto quanto Ho ragionato Cioè O che ne so Il pulviscolo Che c'è appunto In alto a destra Quella è di una foto vera Preso Inserito con Banalmente scolora Messo lì Ma anche là Bisogna sapere Dove andare a mettere Il pulviscolo Perché non puoi Andarmi a mettere Il pulviscolo In punti In cui comunque Non dovrebbe vedersi In punti troppo a fuoco Perché Il pulviscolo Si vede nel momento in cui Per esempio È sfocato Ok Andando a ragionare Sempre in questo modo E beh Potete parlarne per tipo 12 ore Ma Non credo di avere 12 ore Non a caso Tu hai inserito Il pulviscolo Che è bello grosso Perché è un pulviscolo Che sta molto più verso di noi Rispetto alla teca Che è la parte a fuoco E giustamente Si allarga Ma Sostanzialmente Questa cosa Che tu stai dicendo Per chiunque voglia Tra di voi Fare compositing È Oro Perché tutte le volte Che vedo Un composite brutto In un video Questo è brutto Semplicemente Perché si tiene conto Dei colori Come se si stesse Colorando su paint Esatto In realtà Questa cosa Che tu hai detto Del pavimento Andrebbe tenuta In considerazione Anche per quanto riguarda Per esempio Il riflesso dell'acqua Quante volte ho visto Specchiare un'immagine Sull'acqua Senza tenere conto Di che acqua c'è sotto Cioè Se tu specchi un'immagine Così come Sull'acqua Vuol dire che Quell'acqua Non si muove È una tavola Esatto Però come vedi Stiamo parlando Da mai un bel po' Non abbiamo ancora parlato Mai di tecnica Mai di come fare Queste cose qua Perché Photoshop fondamentalmente Ha tipo Proprio due Strumenti in croce Ok Molto molto semplice Photoshop Non è un programma Complicato Che se ne possa dire Il Photoshop È molto 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 semplice Ma attenzione Una cosa che ci tengo A dire sempre Quando parlo di Photoshop Quando parlo sui social Di Photoshop Attenzione Non è Facile Come programma È semplice Nella realizzazione Ed è questa comunque La sua forza principale Molto probabilmente Perché ha veramente Quattro Quattro strumenti in croce È l'intersecamento L'intersecazione È come si intersecano Questi Questi strumenti Che è la forza di Photoshop Ma per fare Quello che abbiamo detto Fino adesso Ovviamente quel pulviscolo Che è più sfocato Verso di me Più a fuoco Sopra Le Le teche È più sfocato Dietro È tutto dato Dal ragionamento Per metterlo È semplice Vedi un pulviscolo a fuoco Poi lo metti avanti Fai sfoca Chiunque conosce il tasto sfoca Comunque su Su filtro Sfocatura Contro la sfocatura Sfoca E dietro lo fa Ideme un po' più sfocato E hai creato una cosa Di estremo realismo Che ti da Ti conferisce all'immagine Una profondità enorme Che attenzione Parare di profondità Su Photoshop È un bel argomento Perché comunque Parliamo di 2D Ok Quindi Conferire profondità A un A un A un'immagine Soltanto con Della sfocatura Banalmente O dell'ombra O roba del genere È una cosa molto nobile Per Per me Diciamo Nel senso Per come la Per come la Vedo io Ed è tutto quanto Dato Non dallo strumento Ma dal ragionamento In realtà Come giustamente dici Capire le meccaniche Di utilizzo Di un software Non necessariamente Vuol dire che sai Usare quel software Cioè ci sono Tantissimi video Tecnici Per spiegarti Il singolo strumento Ci sono tonnellate Di discussioni Su come usare Le curve Esatto Ma non è che Impari a usare Le curve Automaticamente Tu sai Usarle Sull'immagine Che ti serve Cioè Questa cosa Del partire Dal capire il mondo Per poi Riportare tutto In Photoshop Io credo Che sia veramente La differenza Tra uno che usa Photoshop E uno che sa usare Photoshop Dov'è che ti Dov'è che inizi? Cioè qua ci sono Un sacco di interventi Che hai fatto Dov'è che parti? Dov'è che ti piace partire? Allora Bellissima domanda Che apre A una discussione Di un altro Paio d'ore E la risposta Che di norma Io mi do Allora Io ho un'ansia Tremenda Ogni volta Che mi si dà Un render Da iniziare A post produrre O comunque Un'immagine da zero Che mi si dà Da post produrre Perché ho l'ansia? Perché tu Allora Fondamentalmente Tu quel render Lo vedi Lo vedi nascere Vedi il foglio bianco Vedi i materiali Vedi i modelli Che si creano Vedi i materiali Che si creano Oppure banalmente Una fotografia Tu metti Vedi la tua luce Messa in un modo In un altro La macchina fotografica Messa in un dato modo Prendi il fuoco Il diaframma L'esposizione Blah 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 E poi fai la foto E idem Nel render Tutto quanto perfetto Finché il render Non è perfetto Tu non lo dai Al post producer Ok? Certo E quando prendi Un'immagine Che teoricamente È già perfetta Perché tu stesso Perché questo render qua L'ho fatto io Insieme a Mia sorella E un mio collega E questa Questa immagine qua Io l'ho dichiarata Ok È perfetta Renderizzala Ok? Tieni Giovanni Renderizzata Guardarla Non per tanto tempo Perché non è la quantità È la qualità Delle osservazioni Che vado a fare Quindi non è che la guardo Per due giorni interi Vedo un po' Di venire la nausea Ma la guardo Con un'attenzione tale E andare a vedere I piccoli dettaglietti Che non mi stanno bene Ok? Quindi parto proprio Dalle piccole imperfezioni Che magari Dico Ok Qua mi sa che Un bagliorino in più Ci doveva stare Butto lì un bagliorino in più Facendo quel bagliorino Mi accorgo con la coda dell'occhio Che lo scudo I graffi di Black Panther Sullo scudo Non sono molto Non sono molto profondi Quindi vado a metterci Una lucettina sopra Per farli un po' più profondi Mi accorgo che Il martello Ha una textura Un pochino piattina E quindi vado a fare Quello là E poi vado quello E vedo quello E vedo quello E vedo quello E vedo quello Finché mi ritrovo Che sono Totalmente nella mia Bolla creativa Nella mia bolla Sì Per l'appunto Creativa E di lavoro Che Io mi vorrei Proprio tipo Vedere Vedere Con la telecamera Dall'esterno Tipo i film horror In bianco e nero Con la telecamera Che riprende Agli infrarossi Io tipo sono tipo Che lavoro Tutto chiuso Nella mia cosa E non mi accorgo Il tempo che passa Il sole che scende Il sole che risale di nuovo E poi mi sveglio Che l'immagine è pronta Ed è fatta Però la partenza Di base È proprio dai dettaglietti Dei piccoli errorini Pure le piccole cazzatine Le piccole cosettine Piccoline E poi Più le guardi Più ti accorgi Ed è una palla di neve Che scende E si ingrandisce E una volta che poi Arriva a valle E hai fatto una valanga Ok Quindi Come si dice qui da noi Ti sei messo di taglio Ma poi di piatto Parti Parti piano piano Interessante questa cosa Questa valanga Di cose Perché immaginavo Perché immaginavo che l'inizio Fosse un po' complicato Soprattutto con un rendering Fotorealistico Sul quale Insomma Ti senti un po' stronzo A dire Ok è fotorealistico Ma ora ci metto una mano io Qui no? Sì è terribile È terribile È sempre così Ma anche per le belle fotografie Io ci metto tipo un'ora A preparare il set Per fare una fotografia E quando la scatto La scatto perché è bella Perché per me è perfetta Però quando poi la porto a casa E devi lavorarla Devi Tu devi sapere Ora faccio un esempio Estremo Ok Da prendere Non con le pinze Proprio con i pinzoni Da 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 fabbrica Dell'acciaio Il fatto che Il Le sculture di Michelangelo Stavano già all'interno Del loro blocco Mi pare fosse Michelangelo Ok E lui le andava A scolpire Sapendo già Quello che c'era fuori Quello che c'era dentro Qui è un po' il contrario Tu hai già Tu vedi già Quello che è il risultato Che deve essere Ma inconsciamente Nella tua testa Devi avere già Tu lo vedi già Quello che in realtà Dovrebbe ancora Diventare Quello Il potenziale massimo Dell'immagine Tu nella tua testa Lo vedi già Ma molte volte Un errore che fanno i neofiti E che fanno i miei alunni Ho fatto un sacco di volte E mi soffermo molto Su questa cosa qua È che Quando guardano l'immagine Ci lavorano per tipo Una settimana Il loro cervello Li obbliga A dire che va bene Ma per una questione di Oh Ci ho lavorato due settimane L'immagine è buona E dico Guardala bene Guardala dall'esterno Quest'immagine Veramente Bella Guarda lì Quell'errorino lì Funziona anche Mettere Funziona anche Specchiare in orizzonte Perché mi ricordo Quando disegnavo Il modo più veloce Che avevo Per capire Se avevo fatto Una stronzata Dopo qualche ora Era andare a guardare Il disegno allo specchio Sì Penso sì Possa funzionare Ognuno ha ovviamente La propria metodologia Io mi trovo Devo provarla Metter il disegno allo specchio Sinceramente Cioè Flipparlo orizzontalmente Però Ognuno credo Si trovi Molto Cioè Abbia la sua La sua metodologia migliore Però Io Ho sviluppato Nel tempo Una lampadina Nel cervello È una lampadina Che è accesa Rossa Se qualcosa va male Verde L'unico momento In cui va bene Quindi Se io lavoro Su un'immagine Per un mese La lampadina verde Si accenderà Soltanto nel momento In cui vado a salvare Quell'immagine Adesso ci sarà sempre La lampadina rossa E anche se io non vedo Dove sta l'errore Perché non lo vedi Io dico invece Dove sta Ok vedo la lampadina rossa Però non vedo Dove sta l'errore Però c'è la lampadina rossa Che continua A rimanere accesa E quindi so che comunque Ci sta quell'errore Ma devo soltanto Andarla a trovare Vabbè Quella è una cosa Quella è una cosa tua Nel senso che Probabilmente hai talmente Tanta esperienza Perché ne hai fatte Talmente tante Di quelle cose Che A livello proprio Subconscio Percepisci che c'è qualcosa Che non va È quasi in senso di ragno Quello che è Senso di ragno In senso di ragno Sì esattamente Esattamente quello Perché io non so Cioè è come se avessi Il mio cervello accanto Che mi fluttua E mi dice Errore 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 E io lo guardo E dico ma dove Non lo vedo Dove sta sta Se è errore E lui dice Errore Errore E quindi devo stare lì Affinché non A guardare A cercare di E la cosa Che consiglio È di non fermarsi A guardare l'immagine Che se ti fermi A guardare l'immagine Ti continua Ad assuefare A quello Che stai guardando Finché vedi Un foglio grigio Quindi Continua a fare qualcosa Continua A spippolare L'immagine Summetta di qua Sistema di là Ci sono delle selezioni Fatte un po' male Rifinisci Le Le selezioni Tante cose Tanto poi Fiedi che Arriva Molto molto interessante Allora Io ripeto A tutti voi Giovanni Potete trovarlo Sui link Che mettiamo qui In descrizione Ovviamente Ci sono cose In tempo reale Che lui fa Su Twitch Da andare A Sicuramente A guardare A rubacchiare Un po' Di Trucchetti Credo che sia Il format Forse più interessante Per chi vuole imparare Quello Di chi ti riesce A spiare Durante una fase Di lavoro È il grande Fratello creativo Uno lavora Per i cazzi suoi E voi avete L'onore Di andare A guardare Come lavora Non è una cosa Cioè Dieci anni fa Questa cosa qui Guarda che Non si trovava Facilmente Infatti ero molto fiero Della spy mode Mi avevo in mente Una sera a letto Oh cavolo La spy mode Io sto là Lavoro E mi collego Basta Mi confano Staccare Poi è anche una cosa Che secondo me Ti fa passare Di più il tempo Quando fai Magari qualcosa Di noioso Una selezione Un po' Rompicoglioni Cioè almeno Te la vivi Anche meglio tu Sì Sì Assolutamente sì Giovanni Grazie mille Per il tuo Intervento Molto probabilmente Lo rivedrete Qui magari qualche volta Parliamo anche di Qualcosa un pochino Più legato All'ambito Video Anche perché Sappiamo tutti Che Nel video Sì C'è il video Ma c'è anche Un sacco di still Ma proprio Una tonnellata Di still Anche nei film Di supereroe Adesso tu hai messo Dillo scudo No Hai fatto riferimento Al Marvel Cinematic Universe Non avete idea Di che componente 2D c'è Negli effetti Visivi Di un film Di supereroe È proprio Enorme La componente 2D Nei composites Quindi Ne parleremo Ne parleremo Vuoi salutare I nostri amici Ti ringrazio Tanto te Per l'invito E spero Di essere stato Comunque All'altezza Del canale Di avervi Comunque Incurocito Su questa Tecnica Un po' Particolare Su quella Che è appunto La mia visione E niente Ci vediamo Sull'internet Un po' In giro In giro Un po' In giro